Buon pomeriggio a tutti, benvenuti alla presentazione dell'undicesimo rapporto sulla finanza immobiliare di Nomisma. Cercheremo di condensare in un paio d'ore un lavoro molto denso ed articolato che poi troverete nella pubblicazione che sarà a disposizione degli associati e di chi vorrà usufruirne. Come di consueto dividiamo la presentazione in due parti, una prima parte di presentazione vera e propria del rapporto in cui ospitiamo anche la testimonianza particolarmente gradita di Consob, in particolare di Andrea Turi che ci porta il punto di vista della vigilanza che è un elemento quanto mai interessante e opportuno da considerare nell'ambito delle riflessioni che si fanno all'interno del settore e poi una seconda parte di discussione che prenderà le mosse dalle considerazioni della prima parte ma che ovviamente spazierà su tutti gli argomenti non solo quelli citati nella prima parte. Come siamo soliti fare partiamo definendo il campo di gioco cioè la situazione macroeconomica internazionale e nazionale perché questo ci aiuta a fare i ragionamenti successivi e lo fa come ormai consueto è la seconda volta per noi Lucio Poma che è il nostro responsabile scientifico dell'area macroeconomica e industria di Nomisma. Quindi Lucio a te la parola. Mi scuso in anticipo sarò particolarmente rigido sui tempi vogliamo rispettare le due ore che ci siamo dati quindi Lucio avrai 10-12 minuti massimo per il tuo intervento grazie il 2017 è stato un anno fortissimo un anno di rilancio dell'economia. Guardate i valori l'economia mondiale non è mai cresciuta così tanto dal 2010 tutte le altre economie crescono c'è il fenomeno importante della sincronizzazione cioè tutti i paesi sono cresciuti invece nel 2016 alcuni crescevano di più alcuni meno il commercio mondiale è cresciuto tantissimo 4,9 il valore più alto dal 2010 e quindi si è creato un clima positivo di aspettative che ha fatto diciamo a gennaio 2018 far sì che le previsioni fossero molto molto positive anche per i trimestri seguenti e ad aprile 2018 il fondo monetario ha affermato che la crescita mondiale era robusta e vigorosa. Se guardiamo invece l'andamento diviso per trimestri e non le previsioni stimate dell'anno vedete che l'ultimo il primo trimestre del 2008 del 2018 l'ultimo nella figura ci segnala un calo molto forte delle economie. Il Giappone dopo otto trimestri completamente positivi per la prima volta ha una flessione negativa meno 0,2. Guardate il Regno Unito 0,5 0,4 va a 0,1. L'America tiene perché 0,8 0,7 0,6 l'Europa cala un po' la Cina cala un po' ma continua a essere molto molto robusta. Cioè cosa accade? Questo trimestre apre alcune incognite. Attenzione non è assolutamente immaginabile che si pensi che questa crescita abbia un riflusso. Iniziano a mettersi alcuni segnali di attenzione. Guardate la variazione del PIL in Europa. Notate la Germania. La Germania aveva 0,74 nel Q3 del 2017. 0,7 0,61 nel Q4 va a 0,3. Quindi la grande Germania che era cresciuta a due e mezzo nel 2017 ha una battuta d'arresto. Ce l'ha anche la Francia. E in questo senso l'Italia, vedete noi siamo i verdi, che andavamo più lentamente rispetto ai nostri cugini. Vedete? Siamo quelli che di fatto calano meno. Questa battuta d'arresto apre alcune incognite su tre punti. Primo, prezzo del petrolio. Prezzo del petrolio cresce in maniera rapidissima, vedete? Tocca a quota 80, poi scende giù, negli ultimi periodi. Una stima dell'Unità di The Economist e dell'Istat fanno sì che se il prezzo del petrolio rimanesse sui 70 dollari al barile, la stima del PIL italiano sarebbe ridotta di due decimali. Il prezzo del petrolio, quindi, è una prima incognita da valutare. Seconda incognita, tasso di cambio euro-dollaro. Guardate, l'euro si era rivalutato moltissimo e nel finale, vedete, negli ultimi d'aprile, inizia a scendere moltissimo. Quindi il dollaro si rivaluta nei confronti dell'euro. Questa direi che è una delle questioni più importanti. La questione è più importante per almeno tre motivi. Primo motivo, il debito pubblico dei paesi emergenti. Il debito pubblico dei paesi emergenti è in dollari, quindi nel momento in cui il dollaro si svaluta, i paesi emergenti aumentano il loro commercio e i loro scambi. Nel momento in cui il dollaro si rivaluta, il costo del debito diventa più alto e quindi potremmo avere un rallentamento del commercio internazionale. Seconda questione legata al dollaro, la bilancia commerciale. Un dollaro che si diventa più forte, per l'economia mondiale è un vantaggio e uno svantaggio. Un vantaggio perché aumenta il vantaggio delle importazioni americane. Quindi un dollaro più forte fa aumentare le importazioni, cosa vuol dire? Che la domanda americana inizia a uscire fuori dai confini americani. E vedrete per il terzo motivo che è l'inflazione, come questo può essere importante. Quindi un dollaro più forte ridistribuisce la domanda interna americana fra i paesi del mondo. Lo svantaggio qual è? Che peggiora la bilancia commerciale, che già non è assolutamente Florida. E perché questo è particolarmente importante per un quadro internazionale? Perché come sapete la guerra dei dazi di Trump è tesa a ridurre la bilancia commerciale. Se il dollaro si apprezza molto e quindi la bilancia commerciale torna di nuovo in sofferenza, ci sarà un inasprimento della guerra commerciale sui dazi. Quindi cosa accadrà? È sicuramente oggetto di speculazioni future. La terza questione, la più importante, che è collegata alle due, è l'inflazione. Guardate questa figura. In realtà ci manca il valore del 2, che è l'inflazione attesa da tutte le banche, la BCE, la Banca del Giappone, la Fed. È l'inflazione perfetta che vorrebbero avere. Se noi tracciamo idealmente una linea, vedete che soltanto Stati Uniti e Regno Unito, che oltretutto non va bene per niente, riescono ad essere superiori a quella linea. L'Europa 1,5, il Giappone bassissimo, l'Italia siamo a 0,9. Quindi fenomeno nuovo e importante, noi abbiamo una crescita senza inflazione. Per far ripartire l'inflazione, solitamente si agisce sui tassi di interesse, ma vedete benissimo che le banche hanno i tassi di interesse praticamente a zero. L'unica che fa crescere il tasso di interesse, la vedete quella con i trattini, sono la Fed degli Stati Uniti per due motivi. Primo perché vi ho detto sono ripartiti i consumi. E secondo perché l'hanno controbilanciata con una politica fiscale espansiva. Tant'è che il reddito disponibile è aumentato. Quindi hanno fatto una monetaria leggermente restrittiva perché hanno fatto una fiscale espansiva. I consumi sono partiti perché il reddito disponibile era di più. La banca della Cina, vedete, tiene fisso il tasso di interesse, però nel timore tutte le banche stanno alla finestra, ha diminuito le riserve obbligatorie, che quindi è un modo leggermente di fare una monetaria espansiva senza toccare i tassi di interesse. La banca del Giappone, che aveva messo l'obiettivo di raggiungere l'inflazione, l'ha posticipata già sei volte che lo posticipa. La BCE doveva aumentare i tassi, ma anche lei in un clima di incertezza come questo ha preferito fare una politica monetaria morbida, cioè non ha toccato niente. C'è molta attesa. Andiamo a vedere cosa succede in Italia. Molto velocemente. Vedete, noi cagliamo ma di pochissimo rispetto al 2007 e dal momento che gli altri calono di più, rispetto all'Europa, vedete, Q3, Q4, noi eravamo la metà, adesso siamo molto di meno, perché gli altri sono calati molto più di noi. Non perché siamo cresciuti, però siamo calati meno. Inflazione. Siamo allo 0,9 e la cosa più importante di quello 0,9, che vale per l'Italia, vale per l'Europa e vale per il Giappone e anche per l'America, in parte, è che questa inflazione non cresce, quel poco che cresce, per la componente di fondo. Cioè la componente di fondo resta ferma, addirittura nell'ultimo mese è calata dello meno 0,1. L'inflazione cresce per la componente volatile, cioè i prezzi degli energetici. Avete visto, il petrolio va su, i consumi va su. la parte di fondo è ferma. Quindi noi abbiamo una crescita senza inflazione e senza crescita salariale. Ed è una situazione molto delicata. Questo si ripercuote nel clima di fiducia. Vedete, imprese e consumatori. I consumatori erano molto, il clima di fiducia e consumatori, molto positivo negli ultimi quattro mesi, vedete. Nell'ultimo mese abbiamo una flessione. Le industrie, vedete, sono sempre state più prudenti. Clima di fiducia dei consumatori, ve l'ho separato nelle sue componenti, economica, personale, corrente e futuro. E vedete che la flessione maggiore ce l'ha la componente economica, quella blu. Cioè le previsioni delle famiglie sul contesto generale dell'economia e sull'occupazione. Cioè mentre prima lo vedevano in maniera positiva, adesso iniziano ad avere una preoccupazione. Sul clima di fiducia delle imprese, vedete, il commercio addirittura è negativo sotto il 100, quindi vuol dire sotto il 100 che il clima di fiducia è più basso di quello che era il 2010, che è la base 100. le costruzioni invece hanno sempre, addirittura vanno in controtendenza, febbraio, marzo, aprile, la linea tratteggiata sopra, vedete, crescono quando gli altri settori scendono, nell'ultimo mese hanno anche loro una leggera flessione. Occupazione. Occupati i tassi di disoccupazione inattivi, molto velocemente, perché abbiamo due minuti, l'occupazione cresce, cresce tanto, guardate, da dicembre sono 300 mila unità, in realtà il tasso di disoccupazione non cresce quasi niente, cioè non scende quasi niente, vedete, negli ultimi mesi, addirittura negli ultimi due mesi cresce, nonostante la crisi dell'occupazione, perché calano moltissimo gli inattivi, cioè moltissime persone che prima non si iscrivevano all'ufficio di disoccupazione, avevano deciso di non lavorare, decidono di lavorare, 70 mila solo nell'ultimo mese, quindi abbiamo una grandissima flusso di nuove domande, sia da parte maschile che femminile, un'acqua e un minuto, l'occupazione invece è prevalentemente femminile e la cosa molto interessante dell'occupazione, anche per voi, per capire le aspettative, è che crescono prevalentemente le fasce dei giovani, 10-35, e quelle sopra i 55 anni, la fascia intermedia invece cala, e perché cala? Perché crescono tutta la nuova occupazione, è fatta con contratti a tempo determinato, i contratti a tempo indeterminato calano di 51 mila unità, perché questo è molto importante? Perché per un investimento su una casa, un mutuo, cioè a parità di reddito del paese, delle famiglie, come questo reddito è distribuito, cambia completamente il meccanismo di trasmissione con cui questo reddito poi si traduce. ultime due slide, abbiamo fatto questa parte sulla disuguaglianza per due motivi, primo per illustrarvi che c'è una frattura, nel paese e nell'Europa, a fronte di una crescita così grande, che c'è stata nel 2017, questa crescita non è riuscita a diffondersi, a trainare la parte, perché? Perché i meccanismi sono più lenti, cioè i meccanismi di distribuzione della crescita sono più lenti di quelli della crescita stessa. Vedete? Quello è l'indice di disuguaglianza, guardate l'Italia purtroppo, nell'ultimo anno, i dati sono al 2016, cresce moltissimo, quindi cresce la disuguaglianza, arriva quasi all'ambire la Spagna. Entrando nel merito proprio della parte italiana, questo è l'indice di Gini, vedete che c'è una grandissima differenza fra la parte, diciamo, più povera dell'Italia, Isole e Sud, e la parte del Nord-Est, e chiudiamo con l'indice di povertà. L'indice di povertà assoluta e relativa, lì avete i dati che non vi sto a raccontare, è Sud e Isole hanno il 20% delle famiglie in regime di povertà relativa. Sono 2 milioni e 700 mila famiglie in Italia per 8 milioni di persone. È chiaro che questo non è solo un problema etico e morale, è un problema anche economico, cioè riuscire a limare, avvicinare queste distanze, questa frattura, vuol dire far ripartire consumi, risparmi e investimento in questo Paese. Su questo Nomisma ha fatto una ricerca aggiornatissima. Grazie.